bella a tutti ragazzi sono da Mirko ben tornati su gameplay di channel e su stranded alien dawn allora ragazzi mi avete consigliato consigliato tantissimo questo titolo mi avete scritto provalo assolutamente il nuovo ring world ti prego provalo e quindi l'ho chiesto agli sviluppatori che molto gentilmente me l'hanno mandato io non l'ho ancora provato ragazzi l'ho aperto come vedete non c'è continuo e non c'è nulla perché purtroppo sapete che il tempo a piena disposizione è praticamente nullo oltre a quello delle registrazioni e quindi registro direttamente provandolo con voi allora vedendo già queste schermate a livello grafico sti cavoli cioè non è ring world questo è ring world sotto forti steroidi praticamente però guardate che roba sembra essere molto interessante vediamo ragazzi ce lo proviamo insieme facciamo start va benissimo e vediamo vediamo un attimino che cosa dovremmo fare in questo titolo come sempre come sempre ragazzi io vi ricordo che vi porto questo titolo ovviamente con questo primo video diciamo di scoperta se volete continuare a vederlo se vediamo ovviamente valutiamo insieme con questo gameplay che ne può valer la pena ovviamente sono ben felice di valutare un eventuale video di approfondimento piuttosto che una vera e propria serie barra mini serie soprattutto perché se davvero è così simile a ring world sapete insomma quanto io adoro i ring world non sarebbe male giocare una versione ring world diciamo particolarmente pompata a livello grafico a livello tecnico non sarebbe non sarebbe assolutamente male già qua madonna e tanta roba è mai veramente tanta roba ok allora va bene quello quindi loro si sono schiantate l'aspetta ferma metti un attimo in pausa allora loro si sono schiantati con questo landing pod e va bene fino a qua fino a qua direi che ci siamo ok va bene qua muoviamo con wasda come al solito aumentiamo di meno e diminuiamo lo zoom madonna guardate anche i personaggi come sono fatti bene veramente bello ma guardate che spettacolo ok colleziona risorse va bene e anche qua dovrebbe essere molto molto simile a ring world quindi facciamo scavenge e loro andranno a fare le varie risorse dal nostro pod la mische cacchio successo che cacchio è esploso ma sono asteroidi cos'è non lo so vabbè poi abbiamo questo cespuglio facciamo cut quindi fino a qua assolutamente e ring world ragazzi fino a qua è assolutamente ring world e anche qua facciamo cut per quanto riguarda l'albero che spettacolo che spettacolo qua possiamo mettere anche in pausa il tempo possiamo ovviamente velocizzarlo come più ci aggrada abbiamo intanto qua la stagione abbiamo la temperatura va bene qua anno 1 giorno 1 e qua ovviamente i nostri personaggi benissimo benissimo ok allora dobbiamo attivare la resource bar questa direi di tenerla assolutamente e dobbiamo finalmente costruire il nostro basic camp perfetto quindi lo scelter dobbiamo fare il sleeping spot quindi per farli dormire e ovviamente il campfire quindi il fuoco da campo va bene va bene quindi lo scelter perfetto lo facciamo così molto bello il posizionamento a griglia in modo da poter essere decisamente più precisi e posizioniamo qua lo scelter perfetto dobbiamo completare la costruzione ok loro qua intanto stanno scaveggiando forse hanno già finito di raccattare tutte le risorse utili benissimo adesso non so cosa ci sarà qua in giro qua c'è a ok dell'altro materiale che possiamo utilizzare sempre della nostra navetta io lo andrei a prendere perché ci può essere utile qua abbiamo delle piante poi ovviamente gli alberi tutto quanto è ok allora non so si può vedere una mappa sto premendo m ma non me la fa vedere magari me lo farà fare poi diciamo direttamente il tutorial vediamo vediamo intanto abbiamo il nostro connor allora vediamo un attimino i personaggi dunque qua c'è ovviamente la vita la felicità il cibo il resta quindi il sonno e il relax ci dice le eventuali armi equipaggiate va bene mettiamo un secondo in pausa ci dice anche la tolleranza la tolleranza scusatemi al freddo al caldo e ci dice ovviamente le sue abilità in questo caso combat e physical va bene poi qua abbiamo la sua situazione di salute va bene quindi eventuali insomma fratture cose del genere verranno segnate qua qua ci dice ok come sta per quanto riguarda la felicità e come su ring world effettivamente si le varie cose che gli danno diciamo un boost sulla felicità piuttosto che sull'infelicità in questo caso per fortuna è felice completamente qua vediamo anche tutto il suo vestiario qua vediamo le sue statistiche quindi combattimento costruzione cooking crafting farming healing intellect e physical esattamente come su ring world qua la sua biografia diciamo così va bene quindi sui tratti positivi e negativi che siano e qua abbiamo credo le varie diciamo le varie cose che lui può fare o può non fare credo quindi raw food per cui il cibo diciamo così crudo il cooked meal ok mission and on mean emergency rations ok non capisco sì se qua sono no ma penso che siano le cose che a lui credo ah no è restriction esatto no no ok come su ring world le eventuali restrizioni chiediamo ogni singolo personaggio tipo vi ricordate su ring world c'erano i nudisti per cui bisognava dirgli di non andare a indossare vestiti perché sennò giustamente si incazzavano essendo dei nudisti va bene allora adesso gli andiamo a mettere intanto i vari punti di sleeping quindi per poter dormire molto bello il posizionamento mi piace un sacco è perché ti fa vedere questo diciamo lo gramma anche sulla direzione dell'omino vedete quindi come dormirà se con la testa di qua con la testa di là sta cosa mi piace mi piace un sacco perché come detto si può fare una cosa decisamente più precisa benissimo e questo direi che lo mettiamo qua così abbiamo fatto il loro il loro campo bene bene allora andiamo avanti veloce con il tempo intanto loro stanno andando avanti a raccattare risorse ok allora cosa molto bella che come su ring world ci dice che dobbiamo proteggere ovviamente le nostre risorse dalle intemperie meteorologiche quindi dal freddo pioggia eccetera eccetera per cui dobbiamo ovviamente costruire un riparo e anche questa cosa è veramente veramente fighissima molto bella mi piace veramente un casino quindi vediamo di fare sempre uno shelter perfetto che ma è già no non è più grosso ok è grande uguale lo posizioniamo magari qua perfetto dopodiché andiamo si posso anche fare copie vero che non l'avevo visto si si può fare copia e andare direttamente a copiarlo adesso aspetta ma facciamo così i copi così seguiamo cosa ci dice il tutorial sanno magari non mi accetta qua la mission perfetto quindi aumentiamo il tempo così gli facciamo costruire questo shelter e gli andiamo a mettere sotto ovviamente il magazzino diciamo così delle nostre risorse intanto qua sopra abbiamo 200 di scrap metal 13 stick 9 wood 60 insomma vestiti comunque materiale tessuti ecco non mi viene il termine qua gli componenti elettronici il cibo le medicine i vestiti quelli già fatti praticamente le armi e gli other item che sarebbe insomma gli altri item tipo le bottiglie tutte queste cose qua va bene va bene allora dobbiamo andare a mettere degli stockpile perfetto quindi ne metterei magari uno qua ne mettiamo un altro qua ok e ne mettiamo altri due dal lato opposto quindi uno e uno due perfetto perfetto poi dobbiamo credo penso posso decidere cosa mettere negli stockpile sì ok ok quali selezioniamo sì quindi è come sui personaggi eh qua possiamo dirgli di non mangiare ad esempio il cibo crudo eh piuttosto che il quello cucinato i beveraggi eccetera eccetera ok ok molto molto interessante perfetto vabbè gli lasciamo tutto in tutto e ok adesso dobbiamo semplicemente osservare i nostri survivors eh mentre vanno a mettere appunto tutte le risorse che abbiamo indicate qua nei vari eh stockpile corretti perfetto io adesso in realtà gli ho lasciato tutto di tutto e ok eh ricerca e osserva ok quindi dobbiamo osservare eh varie mh diciamo così cose mh presenti sulla mappa quindi come possono essere funghi eccetera eccetera per eh sbloccare praticamente la ricerca ok va bene va bene quindi eh select orange mushroom ok per cui le devo andare a ricercare eccoli qua aspettate che ruotiamo la telecamera così perfetto e andiamo a dirgli di osservare perfetto e adesso una volta osservati possiamo andare nella scienza e fare il research desk che ovviamente ci servirà per la ricerca allora però ecco l'unica cosa di differente è che al momento eh noi possiamo si costruire eh degli shelter e va bene ma magari non lo so li devo ancora sbloccare eh non vedo ehm cose per costruire le singole mura quindi mura tetto cioè potergli costruire come su ringboard direttamente i muri eh come più ci aggrada qua praticamente abbiamo poi tutta la parte degli ordini che come su ringboard possiamo dire di eh tagliare gli alberi minare arvestare eccetera eccetera però vedete che qua ho solo queste cose qua eh abbiamo le tombe abbiamo le torce e va benissimo eh come storage abbiamo ovviamente gli stockpile abbiamo tutti i vari scaffali armadi e quant'altro nelle ehm finiture abbiamo i letti i tavoli le sedie le freccette anche ok il sacco da insomma il pungible qua che non mi viene il nome il sacco da d'allenamento con lo classico abbiamo le eh poltroncine e va bene qua ci sono tutte le varie luci eh qua abbiamo il production eccetera ora non so se queste cose le sbloccheremo magari con eh la ricerca può essere quindi andiamo a fare intanto la farei in wood dai allora quello della ricerca per adesso lo metto qua all'esterno tanto non penso che abbia eh grossi problemi in teoria allora sleep and rest ok eh il survival come al solito va bene alle 21 se ne vanno a farsi fattacci loro e vanno a dormire va bene va bene perfetto perfetto allora qua devo fare il weapons meeting quindi per iniziare a costruire le varie pistolozze e ci fa piacere adesso vedete che loro si coricano e vanno a dormire molto belle anche le animazioni guardate come sono animati bene quando si mettono nel letto caspita eh molto bello devo dire che mi sta piacendo veramente veramente un sacco l'unico dubbio che ho attualmente è sul discorso della costruzione libera eh intanto facciamogli osservare anche queste eh nel senso che voglio capire quanto poi è libera la costruzione perché comunque sarebbe bello potergli costruire le varie strutture magari anche dentro le rocce dentro le montagne come su Rimworld non credo sarà possibile far addirittura questo però sarebbe bello almeno almeno eh riuscire a eh costruire quello che vogliamo cioè fargli delle strutture direttamente con i muri con i tetti eccetera eccetera come del resto si faceva per l'appunto su eh Rimworld va bene nostro Connor stamagnà ok allora eh qua adesso mi diceva di aprire il pannello della ricerca abbiamo effettivamente le costruzioni quindi abbiamo delle stanze ehm diciamo così pre costruite perché abbiamo la costruzione di base la brick room la concrete room credo che cambia diciamo solo per quanto riguarda il materiale come ci dice mattoni eh cemento o penso sia legno questo wood stone scrap metal esatto ehm però anche qua vedo che sono stanze già fatte da quanto vedo eh il peccato sarebbe non poter fare appunto i muri e costruirsi quindi le strutture come eh preferiamo noi però vediamo non è detto che magari aggiungano questa cosa eh successivamente va bene adesso dobbiamo completare l'osservazione l'abbiamo fatta e dobbiamo completare ovviamente ovviamente la eh ricerca perfetto e abbiamo completato anche il weapons meeting ottimo adesso possiamo andare anche a eh craftare tutte le le varie cose insomma nella war bench eccetera eccetera benissimo benissimo allora ok chiudi questo e va bene allora ordini bene quindi facciamo harvest perfetto e gli diciamo di andare ad harvestare devo prendere i funghi allora i funghi erano qua erano queste zone eccoli qua allora facciamo questi funghi perfetto ne dobbiamo raccogliere 20 e li abbiamo ottimo e poi 10 di legna ma questa già gliel'avevo fatta raccogliere bene 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 allora poi production o sulla production abbiamo la war bench abbiamo il shopping block va bene quello per cucinare insomma tutti i vari tavoli va bene allora facciamo così eh dovrei fare una stanza però eh per adesso non l'ho ancora sbloccata quindi per adesso metto le cose fuori all'aperto poi vedremo piano piano di eh sistemare il tutto magari fare un un laboratorio con dentro tutti i tavoli da lavoro eh secondo me può essere figo secondo me può essere figo allora io intanto li mando a osservare un po' di cose eh perché effettivamente potrebbe tornarci utile magari ci sblocca qualcosa visto che qua c'è una pietra che dice di essere interessante insomma c'è un po' di cose carucce carucce va bene allora intanto i nostri dormono tranquilli poi bisognerà vedere gli animali perché ovviamente come avete visto nella intro gli animali ci sono e anche molto belli e molto particolari eh perché sono tutti animali alieni insomma da quello che si vedeva ehm bisognerà capire se come su Rimvor poi le potremmo allevare fare tutte ste cose qua insomma farceli anche amici in modo da utilizzarli per varie cose magari per il trasporto per sostentamento del nostro camp eccetera 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 adesso io stavo cercando animali ma non ne vedo quindi non so se non ce ne sono solo qua in questa zona o magari eh siamo in una versione del gioco che ancora non prevede animali questo sinceramente non ne ho la più palle di idea vedo un sacco di vegetazione ma nulla nulla che mi faccia eh diciamo vedere gli animali va bene ora io posso tornare c'è anche tutta la parte della difesa ok le varie trappole fence se anche qua per adesso non c'è tantissimo però va bene eh allora sì io posso non c'è un tasto per tornare direttamente ah ecco qua vabbè seleziono gli omini e faccio prima eh bene così bene così allora eh ok dunque adesso possiamo fare nella nostra warbench un po' di cose quindi craftiamo possiamo craftare gli healing balm ok e iniziamo a fare questi va bene eh quindi possiamo selezionare il tempo le unità oppure forever vabbè diciamogli forever per adesso che va bene così ah no devo fare until 10 va bene allora te lo facciamo dai eh allora abbiamo detto questo quindi until e facciamo 10 ok perfetto e anche questo l'abbiamo fatto ok e adesso dobbiamo craftare anche eh le weapon benissimo allora qua vediamo se possiamo intanto ricercare qualcos'altro però essendo ancora nel tutorial no non mi fa ancora ricercare magari non ho abbastanza punti comunque non è un grande problema allora iniziamo a eh craftare l'arco intanto eh quanti te ne faccio fare te ne faccio fare tre per adesso tanto siamo in tre quindi ok 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 togliamo il tessuto sintetico perché non ce l'abbiamo e craftiamo solo con il cloth va bene ok quindi questo credo che l'abbia fatto ingrediente perso no mi sa che non ce l'ha fatta mi sa che non ce l'ha fatta eh va bene quindi dobbiamo fare così 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 no pardon ok ok ah devo tirare su questi credo ah sì ok devo mandare sull'arco praticamente ah ok dimmelo prima devo forse fargli fare questo esatto sì devo fargli fare prima l'arco ok well done perfetto e abbiamo completato il nostro tutorial ok allora ragazzi quindi questo era solo il tutorial diciamo eh di base eh sulle prime costruzioni quindi qua non siamo ancora in una partita libera infatti io non ho scelto i personaggi eh all'inizio mi ha fatto tutto loro e infatti qua abbiamo uno scenario con eh delle strutture già costruite dove ci fa praticamente eh vedere sì abbiamo anche gli animali ok animali aggressivi gli scarrafoni abbiamo sti cacchio di ma è bellissimo ragazzi abbiamo anche eh gli animali quindi ok lì probabilmente c'è molte eh molte cose sono bloccate per via ehm appunto che eravamo eh nel tutorial però ragazzi io direi a sto punto facciamo una cosa io per il momento solo per il momento mi fermo qui eh con questo primissimo sguardo ehm come detto se volete che vado avanti col gioco andiamo a iniziare poi eventualmente una eh partita senza tutorial quindi facciamo una partita libera dove ci creiamo ovviamente la nostra eh colonia direttamente vedete che qua possiamo anche scegliere eh lo scenario per adesso abbiamo solo il crash eh landing come scenario quindi va bene eh come regione abbiamo solo questo la luna teniamo la concordia che è quello che abbiamo eh possiamo scegliere la eh difficoltà del gioco possiamo scegliere eh il seed e possiamo scegliere le varie regole se vogliamo qualcosa di particolare ma direi eh di tenerne nessuna e qua infatti abbiamo la scelta del personaggio ok quindi possiamo scegliere direttamente il nostro personaggio qua ce ne da quattro preimpostati ma ovviamente li possiamo vedete andare a togliere eh tutti quanti e sceglierli uno per uno andando a vedere eh come su Rimvor tutte le varie statistiche del personaggio lati positivi negativi eccetera eccetera quindi eh veramente veramente figo vedo che ci sono anche già le eh varie relazioni con eh eventuali altri personaggi eh quindi anche di questo si dovrà tenere conto insomma il gioco ragazzi è assolutamente promettente mi ispira veramente tantissimo guardate che spettacolo ehm io lo vorrei portare avanti ovviamente lo vorrei portare avanti come serie vere e proprie quindi spero spero vivamente che sfondiate sfondiate questo video di like mi raccomando in modo da eh iniziare così ufficialmente una serie anche su questo titolo che secondo me merita veramente veramente tantissimo detto questo ragazzi io ho quindi vivido come sempre lasciare un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti iscrivetevi anche al mio canale Twitch lo trovate sotto in descrizione per non perdervi nessuna dei miei prossimi like detto questo vi ringrazio vi saluto e ci vi chiamo nei prossimi gameplay ciao belli ciao 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 ciao